Benvenuti in news per te. Biaggiarelli rompe il silenzio. Non mi scuso e... Prima di continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Lorenzo Biaggiarelli annuncia che non sarà più ospite fisso del programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. La decisione arriva dopo un periodo di critiche e cattiverie legate a un momento delicato. Ricorderete che, qualche mese fa, Biaggiarelli ha messo in dubbio la veridicità di una recensione omofoba e falsa su Google che riguardava la pizzeria di Pedretti, una pizzaiola lodigiana. Quest'ultima, grazie alla recensione, aveva ottenuto attenzione e pubblicità. Il giorno dopo la Pedretti si è tolta la vita e Biaggiarelli è stato bersaglio di una gogna mediatica. Biaggiarelli rifiuta di scusarsi per la morte di Giovanna Pedretti, ritenendo che ciò sarebbe un'utilizzazione del suo decesso a proprio vantaggio. Esprime il desiderio di accettare le conseguenze della sua scelta, piuttosto che cercare pietà con dichiarazioni non sincere. Riconosce che non ci sono più le condizioni per il suo ritorno nel programma di Clerici. Ringrazia coloro che gli hanno dimostrato affetto e sostegno, nonostante il tentativo di demolirlo. La sua uscita dal programma ha sorpreso molti, mostrando la sensibilità dei temi diventati virali online. Biaggiarelli si tiene stretto l'affetto ricevuto, nonostante i tentativi di demolizione. La vicenda evidenzia la delicatezza delle questioni che si diffondono sul web e l'impatto delle reazioni del pubblico. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.